ciao a tutti bentornati sulla sfida portafortuna contro doppia sfida ormai non so che bisogno siamo arrivati ma saranno avanti sempre di più la sfida continua e vediamo un po cosa ci propone il portafortuna che a 4 euro contro i 15 della del doppia sfida 10 500 e 10 500 20 e 20 quindi il portafortuna rimane fermo dove era passiamo al doppia sfida 31 21 29 e 45 se no deve facciare tutto con l'uno il doppia sfida 15 euro rimassano 5 euro per passare il turno andiamo un po 34 e non c'è 30 e c'è 31 42 c'è 45 27 29 c'è il 12 il 18 il 25 e il 35 niente con i numeri vediamo con le cifre 5 euro 50 euro vediamo un po se 500 e 100 mila tutte e 4 diverse tra loro 20 euro 100 mila che sono già due 20 euro e siamo a 2 e 10 euro niente quindi anche questo rimane perdente e se rimane alla stessa quota di prima 4 euro per il portafortuna e 15 euro per il doppia sfida sta finendo il foglio per riuscire a trovare un vincitore prima che finisca il foglio come se vi saluto ciao a tutti e al prossimo video